Dove incedo? Come il silenzio dei boschi in cui viveva, ora anche la sua morte è avvolta dallo stesso vuoto. Ad un anno di distanza continuano le indagini sulla morte di Mauro Pretto, ucciso nel suo casolare in mezzo al bosco con un colpo di fucile da caccia. Non c'è un colpevole, non c'è nemmeno un indagato, tanto meno un movente. Solo delle prove stanno indagando i carabinieri. L'ipotesi è che a premere quel grilletto sia stato un bracconiere con il quale Pretto avrebbe discusso. Era noto il suo carattere duro, non a caso il boscaiolo aveva scelto di vivere isolato dal mondo sui Montiberici.